buongiorno a tutti bentornati a casa mia mi sono dovuta chiudere in cucina per mostrarvi gli articoli che mi sono arrivati proprio adesso col corriere sd a dali express non è il primo acquisto che faccio mi sono dovuta chiudere in cucina poiché sirio il gatto piccolo stava puntando uno degli articoli che mi sono arrivati ora perché ora vi faccio vedere che è veramente un amore però prima che me lo distrugga il gatto mi sono chiusa in cucina così sto tranquilla mi è arrivato un pacchetto unico con dentro tutti questi piccoli ordini che ho fatto però dai venditori diversi ma evidentemente loro hanno un sistema probabilmente in cui mettono un pacco unico un po più grande dentro tutti i pacchetti più piccoli vabbè questi non ci interessano sono gli involucri allora e no vabbè ve li devo far vedere perché poi a questi prezzi così bassi sinceramente si è come andare dal negozio del cinese si trovano ugualmente parecci vedo poco quindi sul sito faccio meno fatica porta chiavi sto facendo aggiustare il mio ciclomotore sperando che me lo aggiustino sono dieci giorni che glielo portato all'officina e ancora non mi fanno sapere nulla se si può aggiustare o meno però mi serviva un porta chiavi per permettere la chiave della catena catena che poi se lo ruba motorino del 1984 ma per me è un gioiello prezioso poi ve lo farò vedere se me lo aggiustano speriamo ecco qui mi serviva un porta chiavi guardate che carino pom pom lilla di che colore poteva essere poi queste sono le bustine sono tre bustine trasparenti per l'agenda mia a 6 l'organizer che ho io agenda a 6 9,5 per 17 la misura insomma vabbè comunque l'agendina organizer a 6 sono tre bustine trasparenti io qui ci metto gli autografi io gli auto degli autografi che per me sono preziosissimi tra cui l'ando fiorini ho la foto con l'autografo poverino lui ha fatto la storia di roma è del dello spettacolo musicale romano poi ho gli autografi dei giocatori della roma dello scudetto 83 poi ho tantissimi altri degli stadio che a cui sono andata un sacco di concerti e anche loro ai loro autografi ho avuto la fortuna quindi qui ci metterò gli autografi così me li porto sempre con me poi ricambio sempre per a 6 lilla foglietti a foglie foglie a quadretti sembra la carta sembra anche buona dopo la metto nell'agenda vediamo comunque sembra buona sembrano buoni fogli anche questi pagati una sciocchezza e pagati una sciocchezza per l'agenda sei tra l'altro questi ricambi nei negozi normali non sono tanto facile a trovarsi e almeno io non li ho mai trovati guardate che carino sempre lilla ha un come si chiamano charms questi credo di sì da attaccare al portachiavi o vediamo insomma lo metto non lo so l'attacco sull'agenda però più carino sul portachiavi lilla guardate che carino con la catenella anche questo pagato una sciocchezza e pensate che questo venditore ma guardate che carino mi ha messo insieme a questo nel pacchettino questo trist di adesivi con gli smile ma guardate che carini ma quando mai i negozi italiani mandano fa veramente tanto piacere ricevere queste cosine così carine anche che sono di poco valore però è un omaggino veramente fa piacere ecco su aliexpress sordine ve li ho fatti vedere i marco square c820 matite colorate colorati pastello il cui il venditore mi ha spedito l'estensore insieme alle matite per regalo sono sono gesti che veramente rendono rosa ogni giornata finalmente ho preso queste che mi scordavo sempre quando andavo a fare la spesa di prenderle le etichettine l'ho preso aliexpress pure queste per un prezzo proprio ridicolo i portachiavi quelli con l'etichetta per scrivere le chiavi a cosa appartengono perché io ho 2000 chiavi e non so mai di cosa sono quindi ho le chiavi del terreno le chiavi della cantina le chiavi del cancelletto le chiavi anche mio marito insomma 2000 tipi di chiavi insomma quindi qui almeno posso scrivere di che cosa sono e ci metto le chiavi il prezzo ridicolo anche questo ecco poi questi sono questo è sempre un omaggino ora non mi ricordo in quale pacchetto stava che mi hanno fatto guardate che carini gli adesivi con thank you grazie ce n'è uno lì là e beh sarà il primo che userò ovviamente ricambi come quelli di prima agenda 6 sempre sempre questi sono a righe però sembrano buoni non mi ricordo quanti fogli sono a prima vista mi sembrano una trentina di fogli ma posso sbagliare questi sono a righe io la organizer a sei la uso tantissimo c'è appunto di tutto ci segno di tutto ma la tengo in borsa così la porto sempre con me come un diario segreto per me è un'agenda in pelle che mi regalò una mia cliente quando lavoravo ancora che stavo a roma e a tantissimi anni e non si è scalfita non si è rovinata e ci sono molto affezionata perché fu un regalo di questa signora che era una mia cliente mi fece questo regalo non la cambierei con nessun'altra agenda e quindi poi ovviamente dentro i tuoi fogli finiscono e vanno cambiati questi sono lilla e insomma voglio dire e questi sono le righe quelli di prima erano a quadretti e via ci metto io ci scrivo di tutto dentro l'agenda i divisori guardate che carini colori pastel colore pastello io ce l'avevo brutti vecchi neri questi sono colori pastello c'è un celestino un verde acqua un rosa un lilla e un salmone guardate che carino pure questo un prezzo ridicolo belli di plastica sembrano robusti sempre per agenda 6 e guardate che carino questo qua davanti questo lo ho messo da parte con tutti i fiorellini colori pastello ma guardate che carino cioè io alla mia età queste cosine sì sti cavoli voglio dire cioè no e questo è un ultimo regalo che non mi ricordo dove l'ho trovato in quale pacchetto però che carino me l'ho mandato anche questi adesivi si vede che so contenta stamattina sono tutte sciocchezzine no a prezzi bassissimi però che veramente fanno fanno veramente piacere e guardate che carini con questi piccoli che che sono orzacchiottini pandini che cosa sono i cuoricini fiorellini guardate che carini degli sticker metterò sempre sull'agenda io sono così e bisogna essere così bisogna sempre giocare nella vita sempre sentirsi un po bambini tutto qua insomma una piccola postilla mi sta per arrivare con gls un pacchetto molto interessante molto interessante non so se lo spacchettamento riuscirò a farlo oggi lo spacchettamento c'era l'esposizione perché poi devo preparare il pranzo due miliardi di cose da fare se è probabilmente domani comunque dovrebbe arrivare oggi gls questo mi ha portato sda con dentro delle matite colorate sfuse ma per ora non vi dico nulla e vi spiegherò tutto bene anche anche il motivo per cui le ho scelte sfuse che è stata secondo me una mia mossa intelligente poi vi spiegherò tutto vi ringrazio se siete state alla visione grazie a noi iscritti ed iscritte iscrivetevi al canale cliccate la su con l'affaretto la forma di campanella e un abbraccione a tutti e a tutte vi abbraccio ciao ciao